Album numero 16 di Walter Giusti. Foto, audio, mix e ricerca 2023. Mario e Emilia Giusti. Emilia, fai i fiorini. Mario l'aspetta in auto. Caterina, Mariella e Emilia. Basilina, remedi a Bargecchia. Emilia sta raccogliendo i fiori, tutta contenta e ora le porta a casa. Mario aspetta in macchina. Mario Giusti. Emilia, amalia, remedi. Valte in gara all'abetone, l'abetonissimo dell'83. Mariella Giusti in abetone. Caterina e Saide in abetone. Mario Giusti alla guida del 650 allungato. Camion di sua proprietà. Valte Giusti sul camion 650 Fiat. Piero Gambassi. Celatini di Tramontana. Il gioco del ponte. Valte e Gianfranco Baldacci. I Celatini di Tramontana. Orietta Cantenne. Veronica, Mario, Emilia e Valte festeggiano il suo compleanno il 10 di luglio. Walter viene premiato dal De Gratta, Honda 500 Full del 64. Gli atleti del Marathon Club di Pisa, pronti per la marcia. Liza e Walter Giusti. Liza e Walter Giusti. La prima volta daμε alla guida del squadra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.